Benvenuti alla Rassegna Stampa, venerdì 12 marzo 2021, siete sul canale 17 di FanoTV e questa è la Rassegna Occhio e Giornali con il commento ai titoli, alla stampa del giorno, vale a dire i nostri due quotidiani che come tutte le mattine facciamo ormai da 15 anni, vi sottoponiamo per leggere i titoli delle pagine che abbiamo selezionato per voi. Intanto iniziamo dal Santo, oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Luigi e Orione, il sole è sorto alle 6.28 e tramonterà alle 18.13. Bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede ancora brevi piovaschi nelle zone montane che in serata potranno interessare anche la fascia collinare, attenzione però ai venti di burrasca in collina e vento forte sulla costa. Per la giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso con ancora un po' di pioggia durante la notte, al primo mattino brevi piovaschi soprattutto al sud della regione, domenica 14 marzo vedete ancora pioggia sia sulla costa centro-settentrionale che sull'entroterra, nel pomeriggio soprattutto avremo queste piogge sparse e poi ancora forti correnti settentrionali per la prossima settimana favoriranno il Fön, quindi sulle Alpi, in pianura padana e quindi schiarite alternate a brevi precipitazioni sulla nostra regione. La questione del vaccino AstraZeneca è un problema cari telespettatori, di questo chiaramente ne parlano i giornali questa mattina il vaccino AstraZeneca che ha dato dei problemi, sta dando dei problemi, è stato ritirato un lotto qui nelle Marche sono stati inoculati 1750 dosi, chiaramente c'è preoccupazione tra coloro che l'hanno ricevuto, che hanno fatto questo vaccino diciamo che non c'è bisogno comunque di allarmarsi, bisogna stare tranquilli, cerchiamo di essere sereni e di affrontare insomma questa situazione tenendo conto che ci sono persone che stanno lavorando per cercare di dare una spiegazione, un senso a tutto quanto e quindi non bloccare soprattutto il piano della vaccinazione. Allora intanto andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico. AstraZeneca lotto sospeso, questo è il titolo d'apertura dell'edizione pesarese ma anche delle altre edizioni, nelle Marche sono state somministrate 1750 dosi del vaccino bloccato dall'AIFA, fiale sostituite, da lunedì tutta la regione invece va verso il Rosso, ieri altre 900 persone positive continuano a salire i ricoveri. Mentre a centropagina fanno Grosseto, un patto a tre tra Marche, Umbria e Toscana e la notizia è che il governo Draghi sta per dare la delega allo sport a Valentina Vezzali che sarà probabilmente il nuovo sottosegretario con delega allo sport del governo appunto di Mario Draghi. Oggi sarà ufficializzata la nomina dal Consiglio dei Ministri. L'idea alla celletta vaccini in palestra per i medici di base, poi i contagi in azienda e i sindacati chiedono maggiore sicurezza e a Gabice le mascherine puzzano, a scuola 50 mila praticamente inservibili. Sotto invece nasconde la maxivincita per non perdere i sostegni, la donna prendeva a Vallefoglie il reddito di cittadinanza ma con un patrimonio di oltre 450 mila euro e poi minacce di morte e abusi sulla moglie dopo la condanna vuole essere curato. Il Carlino di Pesaro, partita persa per Covid, il Carlino sceglie la notizia del pallavolo con la Megabox dove ci sono tre casi positivi, non giochiamo per responsabilità, dicono le giocatrici, addio dunque alla finale. Ma anche qui l'apertura è per il lotto sospeso, qui mille i vaccinati, le dosi di AstraZeneca sono state utilizzate per le forze dell'ordine, nessuna reazione però grave, segnalata. L'inchiesta sul porto a Pesaro, la capitaneria, disse sì alle torri, ecco il verbale. Poi scatta il processo per la soldatessa che è rimasta ferita al poligono a Carpegna, sette le persone imputate. Infermieri in fuga invece l'allarme dalle case di riposo dopo il concorso. In Parlamento fanno Grosseto, Roma conferma la priorità dell'opera. E sui vaccini al Monaldi ancora file, ambienti troppo stretti, mentre la polemica dei sindacati per le fiale nelle fabbriche, propaganda degli industriali. Il poeta Piersanti invece vince il premio Umberto Saba, soddisfazione ad Urbino, il riconoscimento per il suo ultimo libro viene da Trieste, regioni Friuli, Venezia e Giulia. E poi il caso delle maxi vincite con il reddito di cittadinanza, una donna incassava, come abbiamo visto, l'assegno e poi giocava. Il marito evadeva le tasse, lei è stata denunciata. Il carino di Ancona stoppa tutte le visite non urgenti. Gli ospedali della provincia anconetana sono sotto stress, costretti a rinviare anche gli interventi per almeno 15 giorni. Mentre l'otto sospeso, la fotonotizia, dosi bloccate, caso AstraZeneca nelle Marche ritirate oltre 1.800 fiale. Con un provvedimento urgente, dunque, l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto in via precauzionale l'immediato divieto di utilizzo di un lotto, di un lotto di questo vaccino che è il numero ABV2856, per essere precisi. Ed è un vaccino anti-Covid, appunto, AstraZeneca, su tutto il territorio nazionale, tutta Italia. Questo perché? Perché ci sono state delle segnalazioni, anche purtroppo delle morti, di eventi avversi, eventi avversi anche gravi, che hanno portato appunto anche al decesso, in concomitanza temporale con la somministrazione di questo vaccino. Ora, l'utilizzo di queste dosi, di questo lotto in questione, è stato immediatamente sospeso anche e sostituito con altri lotti di vaccino disponibili, fa sapere la Regione Marche. Non dovrebbero esserci degli slittamenti, quindi il piano, che già va rilento di suo, ma dovrebbe essere mantenuto, e quindi non dovrebbero esserci slittamenti per quanto riguarda la somministrazione a chi? Al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Sono questi due target, diciamo, a cui da piano vaccinale nazionale viene inoculato questo farmaco della Casa Farmaceutica Anglosvedese, che è appunto AstraZeneca. Ora, alla luce di tutto quello che sta succedendo, chiaramente un po' di rallentamenti ci saranno, anche perché Salta Martini, l'assessore regionale alla Sanità, ha già detto che lo stanno chiamando da tutte le parti per capire, anche quelli che l'hanno già fatto, se devono preoccuparsi, che cosa sta succedendo, e soprattutto adesso quelli che dovranno farlo, che cosa faranno, lo faranno oppure no. Chiaramente adesso qualcuno già sta mettendo le mani avanti, sta dicendo, lo vedremo tra poco, Pregliasco che dice no, questo vaccino è sicuro, pensiamo soltanto che soltanto alcune persone, su diverse milioni che hanno fatto questo vaccino, hanno avuto queste reazioni avverse, gravi. Ora, è attivo, questo in via precauzionale, è attivo anche nelle Marche un monitoraggio costante di queste eventuali reazioni avverse ai soggetti che finora hanno ricevuto le dosi dell'otto in questione, e nelle Marche, abbiamo detto, di questo vaccino ne sono stati inoculati 1.750, si sono verificati soltanto due eventi malievi rispetto a nulla a che vedere con quelli gravi, hanno avuto febbre alta queste due persone e molti dolori muscolari, che però, voglio dire, accade anche per chi fa l'altro vaccino, insomma, quindi non è preoccupante. Chiaramente, molte persone che hanno ricevuto questo vaccino AstraZeneca hanno, come ho già detto, scritto, chiamato l'assessore Saltamartini, mentre il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha chiesto alla conferenza Stato-Regioni di, anzi, se possono proseguire nella somministrazione di questo vaccino oppure no. Però, al momento, nessuno ha risposto a questa domanda di Acquaroli. Nel Pesarese, invece, nell'area vasta 1 del Pesarese, il lotto di AstraZeneca ritirato e stato somministrato nei giorni scorsi alle forze dell'ordine della provincia che si sono vaccinate all'ospedale di Muraglia. Sono state somministrate qui circa 1.500-1.500 dosi, per fortuna però non sono state segnalate particolari controindicazioni. Martina Marinangeli scrive tutto in maniera precisa sul Corriere di questa mattina, quindi andate a comprare il giornale, le edicole sono aperte anche se siamo in zona rossa e quindi avrete un po' tutto il quadro della situazione. Tra l'altro va detto che su AstraZeneca, diciamoci la verità, è stato sfortunato questo vaccino perché sin dall'inizio si è sempre avuto all'idea che fosse uno di quelli che non era poi un granché. Ma queste sono soltanto, così pur parlè, niente di che, soltanto a livello giornalistico, per dire che insomma è stato un po' sfortunato anche nella presentazione, proprio dall'inizio. Intanto Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, in attesa di avere ulteriori informazioni, chiaramente hanno sospeso la somministrazione di questo vaccino. Nelle Marche, per chiudere il dato, sono stati questo farmaco, questo vaccino, nelle Marche è stato somministrato a 8.391 soggetti appartenenti al personale scolastico e a 4.983 membri delle forze dell'ordine. Morti sospette dopo il vaccino AstraZeneca, titola invece il resto del carlino, l'AIFA sequestra maxilotto di dosi, tre decessi, tutti in Sicilia, finiti sotto la lente di ingrandimento, ma il governo tira dritto sulla campagna di immunizzazione. In Italia l'ultima morte sospetta è quella di Stefano Paternò, 43 anni, sotto ufficiale di Marina, in servizio ad Augusta, deceduto per arresto cardiaco il giorno dopo essersi sottoposto alla prima dose del vaccino. Ma, come dicevo, Pregliasco, il virologo, ora si cura, dice nessun allarmismo, il siero è sicuro, dobbiamo andare avanti. Meno casi avversi di quelli avuti nelle sperimentazioni. Praticamente stiamo parlando, dice Pregliasco, di 30 tremboembolie su 5 milioni di dosi inoculate. È una quota davvero minima. Poi vagliela a spiegare ai parenti e familiari di queste 30 persone che sono rimaste lì. Ma, comunque, dice alla domanda, quindi qui di AstraZeneca è sicuro, la risposta di Pregliasco è, ne sono convinto, e al netto di una narrazione sfortunata, quello che vi dicevo io poco fa, mostra nell'uso reale un'efficacia superiore alle previsioni. Con le varianti che imperversano, sarebbe assurdo non sfruttarlo. Esercito di vaccinati. Siamo alla pagina 2 del Carlino di Pesaro, con le dosi del rotto ritirato. Finora nessuna reazione avversa, nessuna reazione grave segnalata. A Muraglia sono oltre mille le persone, tra le forze dell'ordine e i sanitari, che hanno ricevuto le fiale di AstraZeneca, finite nel mirino. Mentre Edoardo Berselli, che è il direttore sanitario, dice stiamo tranquilli, e se hanno febbre alta e dolori muscolari, si tratta di reazioni fisiologiche. Dunque si tratta di un lotto che in questo momento è stato ritirato. Mauro Mancini, c'è questa intervista che vi segnalo sempre sulla pagina del Carlino di Pesaro, direttore della farmacia ospedaliera, dice fiducia intatta, lo dicono anche i numeri. E ribadisce che questo è solo un provvedimento precauzionale che deve essere considerato una tutela in più per i cittadini. Non è il caso di diffondere allarmismi esagerati. Allora, da lunedì quasi tutta l'Italia va in rosso. Oggi Draghi decide sul giro di vite. Siamo sulla pagina nazionale del Carlino. Alcuni governatori e sindaci sono pronti a prendere misure ancora più restrittive. Il divieto di spostamento tra regioni prolungato fino alla 6 di aprile. Dunque da lunedì rischiamo oltre 54 milioni di italiani in zona rossa o arancione su 60. Quindi non tutta l'Italia, ma una buona parte, perché insomma soltanto 6 milioni di persone, 6 milioni di italiani potranno probabilmente stare un po' più liberi. Ma comunque questa è la situazione. ci sono ordinanze che arriveranno anche dalle regioni. I governatori chiedono, chiedono a differenza del governo nazionale, chiedono ulteriori restrizioni. Quindi probabilmente avremo un'Italia in alcune parti rossa, in alcune un po' più rossa, in alcune meno rossa. Ma comunque, ecco, viaggiamo un po' in questo modo. Per quanto riguarda il coprifuoco, è possibile che Draghi decida di anticipare il coprifuoco, attualmente in vigore dalle 5 alle 22 in tutta Italia, tranne che in Sardegna, che lo ricordiamo, è l'unica regione in zona bianca dove bisogna rientrare a casa entro le 23.30. Le ipotesi sono di programmare la fine delle attività all'esterno alle 20 o addirittura alle 18. Tutto questo alle 18, soprattutto alle 6 del pomeriggio. Perché? Perché con questo provvedimento si annullerebbero gli assembramenti da aperitivo fai-da-te. Pensate a che livello siamo arrivati. Le Marche verso il Rosso, con l'incognita variante. Oggi la decisione finale, il governatore Acquaroli, RT, scusate, stabile, ma sopra 1. Ascoli purtroppo ha dei contagi in crescita. Quattro province su cinque hanno già attivato da giorni le misure restrittive e a momento chiaramente è impossibile notare sin da subito gli effetti di queste chiusure. Insomma, siamo appena, sono da qualche giorno in zona rossa, quindi è difficile, è difficile credo poter vedere subito gli effetti. Certamente, a questo punto, credo che la cosa più importante, visto che molti sono ancora duri di comprendonio, sia quello di mettergli, come dire, lo spauracchio della multa, 400 euro di multa, non sono pochi, quindi essere presi per strada senza un valido motivo, una giustificazione, può essere, può fare da deterrente, ma poi, ripeto, c'è anche gente che ancora deve pagare la multa del primo lockdown. Per Pasqua c'è il modello Natale, intanto, il restaling del DPCM scatta lunedì, si riunisce il Consiglio dei Ministri, il decreto contiene regole più stringenti e dunque bisognerà attendere qualche giorno per avere più chiara la situazione. Intanto, ad Ancona, il Vescovo Spina, ha inviato una nota ai religiosi fedeli con le regole per le celebrazioni della Pasqua, dal bacio alla croce, alla lavanda dei piedi, nella Domenica delle Palme, i rami potranno essere consegnati soltanto in buste chiuse e trasparenti, insomma, il Covid cambia tutti i riti della Pasqua. Ospedali al collasso, ma c'è gente a spasso. Qui la fotografia, come vedete qua sulla destra, di una volontaria della Croce Rossa di Loreto, lei è Stefania Moroni, la quale dice gli ospedali sono al collasso, ma vedo tanta gente in giro. E così ha deciso di scrivere una lettera, una lettera appello, di quelle che ogni tanto vengono fuori, ma ormai evidentemente non fanno più presa nemmeno queste lettere appello. Una volta all'inizio bastava una fotografia per scuotere le coscienze, adesso invece non serve manco più quello, insomma, non c'è più niente da fare, ormai siamo anestetizzati su tutto. E quindi lettera appello di questa volontaria della Croce Rossa che dice vi racconto le nostre giornate d'inferno, c'è ancora troppa ignoranza in giro. E c'è ancora troppa gente spavalda che va con la mascherina tirata giù come se niente fosse. Va questo, va bene. E bufera sulle dosi già arrivate dagli uffici, ecco qui il Covid si comincia a mischiare con la politica. Che cosa è successo? C'è questa guerra, ormai parliamo sempre di guerra, ma la guerra dei numeri sui vaccini ricevuti e somministrati che mette in imbarazzo Palazzo Raffaello. Nel giro di 24 ore la Regione prima smentisce se stessa, poi si corregge, ma è difficile non notare un cortocircuito di dati che solleva più di un punto interrogativo. Il punto in questione è che ci sono due versioni differenti del totale di dosi consegnate alle Marche e di conseguenza di quelle inoculate. con una discrepanza di circa 35 mila unità. Ora, non abbiamo tempo di leggere tutto quanto. Va detto che i consiglieri Mastro Vincenzo e Casini chiedono l'accesso agli atti per vedere quante dosi effettivamente sono arrivate nelle Marche, quante dosi di vaccino sono state somministrate, però i numeri, a quanto pare, non coincidono tra quelle che ha dichiarato il governo della Regione Marche e quelli invece che sono scritti nero su bianco in questi atti, in questi fogli, a cui hanno avuto accesso i consiglieri del Partito Democratico. E quindi potete immaginare lo scandalo che ne è nato. Travolto ucciso, cambiamo argomento, travolto ucciso in carrozzina, questa tragedia che si è consumata l'altra sera a Pesaro c'è il nulla osta per il funerale, la Polizia Locale sta completando gli accertamenti sull'investimento del disabile, ovvero Antonio Cetta, il 61enne, travolto ucciso mercoledì pomeriggio sulle strisce pedonali a Pesaro. La vittima, come abbiamo già detto, anche ieri era una persona molto nota in città che si spostava in carrozzina elettrica, un uomo affetto da nanismo e da altre piatologie, aiutato nella respirazione da bombole dell'ossigeno. Ecco, c'è stato comunque, c'è questo nulla osta di cui parla appunto il giornale questa mattina per il funerale anche se non ho visto per il momento la data. Intanto sull'altra pagina, la pagina 14 del Corriere Adriatico invece si parla di infrastrutture, di viabilità, di strade, di questa benedetta Fano Grosseto, adesso si dice, si parla di quattro corsie, ritorniamo al vecchio progetto, c'è stato un incontro tra gli assessori regionali Baldelli e Malasecche nei luoghi simbolo di questo impasse stradale. Vedete la stretta di mano tra questi due assessori regionali davanti alla famosa, famigerata Galleria della Guinza. Mentre violenze e minacce dalla pagina di Fano di Morte alla moglie e dopo la condanna chiede di essere curato, un cinquantenne fanese sarà tra i primi partecipanti al percorso per il recupero di uomini maltrattati. Minacce di morte, insulti, fino a investirla con il motorino, finisce a processo con l'accusa di atti persecutori e lesioni aggravate, ora è pronto, è pronto a seguire il percorso di recupero per uomini maltrattati, un servizio appena aperto a Pesaro grazie al progetto L'Armadio. Il caso riguarda una donna di 50 anni di Torre Annunziata residente a Fano, l'ex marito con cui ha avuto dei figli non accettava la separazione e ha iniziato a tempestarla di telefonate e poi tutto il racconto che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico di Fano. Intanto oggi c'è l'ultimo saluto al gigante buono Burro, ovvero Massimo Alessandrini, cinquantottenne fanese vittima del Covid, un appassionato di calcio che continuava a seguire la sua squadra del Cuore, l'Alma Juventus Fano anche da Castelfidardo in provincia di Ancona dove si era trasferito alcuni anni fa e ci sono tante persone che lo hanno ricordato anche attraverso i social network. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio a Castelfidardo poi la Salma di Alessandrini farà ritorno a Fano per una benedizione alla 17 nel cemitero dell'Ulivo a Roncosambaccio. La pagina di Fano del Carlino invece ripresi gli scavi nell'area del Teatro Romano la soprintendenza sarebbe a lavoro da una ventina di giorni sotto l'edificio dell'ex Filanda al confine con l'ex convento degli Agostignani gli interventi sono propedeutici al futuro museo della Romanità. Poi c'è questa idea che non so se vi piace o meno ma non la trovo del tutto fuori luogo quella di coprire chiaramente con attrezzature moderne con un tetto trasparente di coprire l'ex chiese di San Francesco quella che oggi è famosa anche per il fatto che non ha il tetto e che è di fianco alla sede del comune di Fano copriamo San Francesco con il tetto trasparente a rilanciare l'idea il parlamentare leghista Luca Rodolfo Paolini non è una forzatura perché lui dice se copriamo questa struttura la San Francesco con un tetto apribile e trasparente non ci vedo nessuna forzatura ma la volontà di valorizzare un bene monumentale che se lasciato a cielo aperto rischia di subire sempre maggiori danni servirebbe un progetto che insomma possa in qualche modo salvaguardare questa bella struttura che viene soprattutto utilizzata a Fano lo dico per chi ci ascolta da fuori anche per i matrimoni laici la Capiteneria disse sì alle torri siamo sulla pagina ancora del Carlino perché qui si affronta il problema che evidentemente sta facendo passare qualche notte in sonno a chi ha comprato il terreno per investirci e chi ha speso soldi per costruire questi appartamenti queste due torri che oggi vengono bloccate dal Tribunale la Capiteneria disse sì alla Procura la Capiteneria disse sì alle torri ecco il verbale intanto oggi il GIP affida a tre tecnici l'incarico di studiare il piano regolatore per sapere se consente le residenze in quella zona di via Calatacaia Duilio perché qui siamo praticamente a ridosso del porto quindi insomma la Capiteneria in questo momento si è messa un po' di traverso accoglie al Metauro al via la pulizia delle caditoie l'assessore comunale Pietro Briganti dice è una delle principali richieste arrivate da parte dei cittadini la mappa dunque degli interventi pubblicata sul giornale poi attacco la sottosegretaria Accoto i consiglieri di 5 Stelle vanno in sua difesa mentre a Marotta è installata la video sorveglianza anche nel sottopasso delle rane sistema d'avanguardia con semafori e sensori più sicurezza anche per quanto riguarda gli allegamenti questo è importante perché ogni tanto qualcuno poi ci rimane lì in mezzo segnalate invece la presenza di animali randagi l'appello dell'associazione da San Costanzo dopo la complessa cattura di un gatto mentre sulla pagina di Urbino del Carlino si parla di questo fatto di cronaca che riguarda un fatto caduto nel luglio nel giugno anzi del 2018 soldatessa ferita al poligono processo al via nel 2018 durante un'esercitazione a Carpegna l'allora 27enne era di servizio con l'ambulanza quando venne colpita al volto la giovane donna ha perso vista e udito da un lato e ha difficoltà di masticazione mentre controlli anti-covid sempre da Urbino controlli dei carabinieri è arrestato un marocchino di 44 anni da Corinaldo invece nella pagina di Senigallia purtroppo c'è stato un nuovo crollo e dunque c'è il rischio adesso serio di evacuazione il crollo delle mura questa enorme frattura che ieri si è aperta nelle mura storiche ieri hanno mostrato ulteriori cedimenti la terza volta in poche settimane sul posto sono arrivati i vigili del fuoco poi per rilanciare lo sport invece la bella notizia che Draghi ha scelto Valentina Vezzali la super campionessa di scherma Iesina avrà la delega come sottosegretario oggi sarà ufficializzata la nomina dal Consiglio dei Ministri e la partita per lei dei bonus a 15 anni i primi successi ed è mamma di due figli e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo i programmi di oggi allora abbiamo alle 9 di questa mattina tra poco le prediche per la quaresima tenute dal cardinal Raniero Canta la Messa e poi alle 11.40 circa l'udienza di Papa Francesco è partecipante al corso sul foro interno promosso dalla penitenzeria apostolica e alle 21 questa sera esplorare i confini dal titolo Domenico Modugno il padre dei cantautori italiani con Enzo Vecchiarelli attore, cantante e chitarrista per l'informazione invece con il nostro telegiornale l'appuntamento come sempre alle 20.30 grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di trascorrere una serena giornata grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti